Così la missione di Valen in Africa consiste nello sviluppo del supercarro armato Ratt. È difficile immaginarne l'impatto distruttivo qualora venisse utilizzato, ma l'inerzia della guerra sta cambiando. Gli alleati hanno ripreso Tobruk e tagliato i rifornimenti di Valen. Ha urgenza di terminare il Ratt prima che Hitler lo abbandoni. Questa sua urgenza, unita al lavoro dei nostri servizi segreti, ci ha aiutato a individuare l'impianto di costruzione. Questa è l'ultima fermata. Con l'aiuto dell'LRDG devo mettere fuori uso il campo d'aviazione e le linee di rifornimento di Valen. Mi avvicinerò da ovest e mi piazzerò vicino all'ingresso sud. Quando l'LRDG inizierà l'attacco, offrirò fuoco di copertura e quando arriveranno si scatenerà l'inferno. Converrebbe neutralizzare la torre delle comunicazioni per limitare i rinforzi. In ogni caso, ci sarà un po' di confusione. Converbe Grazie a tutti. 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 a tutti.